Ciao, io sono Marco Scarponi, il fratello di Michele Scarponi, grande ciclista, professionista, vincitore di un giro d'Italia di una Tirreno Adriatico, che è stato ucciso sulla strada nel 2017, il 22 aprile 2017, quando si allenava in bicicletta. Da allora è nata la fondazione Michele Scarponi per lottare contro la violenza stradale, affinché nessuno muoia più come è morto Michele sulla strada. Adesso siamo qui, siamo al Giro E, al Giro delle E-Bike, con lo scopo di riportare Michele simbolicamente sulle strade del Giro, della corsa che lui amava più di tutti, attraverso tanti amici, tanti cicloamatori, ma anche tanti ex professionisti, tra cui Gilberto Simoni, il grande Gilberto Simoni, che è il nostro capitano. Poi durante la strada incontreremo tante altre persone, abbiamo coinvolto oltre 70 ciclisti, tutte persone che ho incontrato in questi tre anni di Giro Vagare per l'Italia, tra convegni, dibattiti sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione stradale. La fondazione fa questo, fa progetti per le scuole, progetti legati alla mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale, fa progetti per i familiari delle vittime della violenza stradale e fa progetti per lo sport, per i più piccoli, affinché il ciclismo ritorni ad essere uno sport sicuro, uno sport che tutti quanti i genitori possono consegnare i propri figli in sicurezza. Quindi io vi prego di sostenerci in qualche modo, di sostenerci attraverso una donazione, attraverso il 5x1000, potete trovare tutto quanto sul sito www.michelescarponi.com. Grazie a tutti!